Ciao Romy Family, buongiorno! Oggi tratteremo un argomento molto importante che riguarda i papà e le figlie. Non vi è mai capitato che vostra moglie vi abbia detto di fare le codine alla figlia? Bene, noi abbiamo trovato la soluzione al problema per i papà, quindi sigla, guarda il video e facci sapere sotto nei commenti se ti abbiamo aiutato. Michela, vieni qua? Arrivo! Eccoci qui, adesso ne vedremo delle belle. Parliamo di attrezzatura. Abbiamo bisogno di un aspirapolvere, di una molletta da mettere direttamente sul tubo dell'aspirapolvere. Procediamo. Cosa mi fai? Ti faccio le codine come pipi calze lunghe. Andiamo. Prima codina fatta. Senza uso di spazzola, lacca e niente. Molletta per la seconda. Procediamo con la seconda. Seconda codina fatta. Adesso andiamo a fare la coda centrale. Aspiriamo. Terza codina fatta. Avete visto che soluzione rapida e efficace che ho trovato? Vi è piaciuta? Scrivilo sotto nei commenti. Mi raccomando, clicca il tasto iscriviti per non perdere i prossimi video. Ciao!